Grazie, consigliere Carzeri, il presidente Pizzul ha chiesto di intervenire nella facoltà. Ecco il semplice, elementare e segreto degli alpini, un sacro patto umano. È un'intesa profonda che passa da uomo a uomo sul filo della penna nera. Un patto umano che quando passa dal patimento condiviso insieme al pane in mezzo al sangue non sa morire più. Sono parole di Giulio Bedeschi, che noi tutti conosciamo come autore di 100.000 gavette di ghiaccio. Parole che raccontano il dramma vissuto da Bedeschi e dai suoi commilitoni. Oggi probabilmente, consentitemi questa battuta, invece di dire insieme al pane in mezzo al sangue si potrebbe dire insieme al pane in mezzo al vino, che probabilmente sarebbe più adeguato, ma nulla toglie alla profonda verità di questa frase. Che ci dice come il PDL che oggi noi stiamo esaminando, anzi abbiamo votato e voteremo tra poco, ci consegna una responsabilità. È una responsabilità per Regione Lombardia, e una responsabilità anche per l'Associazione Nazionale Alpini. E mi rivolgo al Presidente Sebastiano Favero, che poi dirò. È una scuola di vita, quella degli alpini, che l'ANA porta avanti con la sua azione, che è un'azione davvero a 360 gradi. Correggo Floriano Massardi, relatore. In realtà anche in Commissione avevamo già detto che probabilmente c'era da ragionare su un'altra data. Un po' perché laicamente dico che individuare una ricorrenza nella benedizione di un campo, forse qualche ragionamento dovrebbe indurre. Ma fa nulla, votiamola così. È una scuola di vita, dicevo, che parte da, consentitemi, tre aspetti. L'esemplarità, anzitutto, serve soprattutto oggi indicare dei valori condivisi, che uniscono e non dividono. E l'ANA e gli alpini fanno questo. La solidarietà, perché bisogna riconoscerci capaci di offrire ciascuno a modo nostro un contributo prezioso per gli altri. E l'ANA fa questo. E poi la sobrietà. Tacere e contemplare, rispettare e valorizzare. L'ANA lo fa, dovrebbe farlo un po' di più anche la politica, all'insegna della sobrietà. E allora i compiti, la responsabilità, che dicevo. Comincio dalla Regione. Che questa legge non rimanga solo una bandierina, ma che oltre ai finanziamenti, porti con sé l'impegno della Regione, dell'istituzione, a essere esemplare, solidale e sobria. E a essere degna di quelli che sono i valori dell'Associazione Nazionale Alpini, che oggi indichiamo come esemplari. E poi la responsabilità per voi, caro Presidente. Essere sempre pronti a stimolare la Regione, l'istituzione, perché questa legge non rimanga solo sulla carta, ma diventi davvero un modo per promuovere i valori di cui siete portatori. In nome di questo, annuncio, confermo con piacere, il voto favorevole del Partito Democratico. Grazie Presidente Pizzul. L'ultima dichiarazione di voto è quella.